Ben trovati alla rassegna stampa di Fanno TV con la quale iniziamo le nostre trasmissioni. Questa mattina, oggi è venerdì 22 marzo 2024, è un giorno che dovrebbe così essere migliore di quello di ieri dopo che ieri il bel tempo si è trasformato in una pioggerellina che comunque come dico sempre ha rinfrescato le nostre campagne. Ma vediamo subito le previsioni del tempo, ma prima chi si festeggia oggi con l'almanacco del giorno? Ecco l'abbiamo sfogliato ed è Santa Lea di Roma, una santa che visse nel IV secolo, consacrata signore in una delle prime comunità femminili fondate da San Gerolamo. Da grande dama Lea si trasformò in serva, ad una lussuosa dimora preferì l'ambito ristretto, povero, della sua cella, conducendo una vita di penitenza e ricca di opere buone. Vediamo ora le previsioni del tempo. Dicevo che il tempo migliora rispetto alla pioggia di ieri sera, oggi vediamo che ci saranno delle residue, piogge nella notte, segue una giornata stabile con graduali schiarite. Le temperature massime saranno entro i 16-19 gradi, la minima si è testata a 12, i venti sulle coste espirano da nord-ovest nelle coste per quanto riguarda entroterra e costa. E poi vediamo che le temperature dovrebbero essere in calo, il mare è leggermente mosso e il sole è sorto alle 6 e 06, tramonterà alle 18 e 21. Questo è il primo approccio per quanto riguarda le notizie di oggi, ora vediamo cosa pubblicano i giornali. E vediamo subito l'apertura sul resto del Carlino, la pagina di Fano. Si parla di una iniziativa del FAI, quest'anno veramente il FAI ci regala una grande, una grande sorpresa. Quella della visita della villa extraurbana, una villa romana, sepolta sotto un grande caseggiato e il centro direzionale di Via Roma, scoperta 20 anni fa, mai aperta al pubblico. E quindi sabato e domenica fanesi e turisti potranno visitare questa meraviglia, diciamo così, questo grande reperto storico che si nasconde nel sottosuolo fanese. Tesoro romano nascosto, spunta grazie al FAI. È l'area all'angolo tra Via Roma e Via della Abbazia, dove c'è quel tempietto di San Paterniano che è un segnacolo per quanto riguarda la Abbazia che poi è sorta su una necropoli. La necropoli aveva così occupato il posto della villa romana, una villa rustica, una villa campagnola, perché si trovava subito dopo nel paesaggio agreste della città romana della Fannum Fortune. Nel IX secolo poi fu realizzata la Abbazia sul luogo di sepoltura primitivo di San Paterniano. Poi nel 1500 San Paterniano fu trasferito nella nuova chiesa realizzata dentro le mura. È un complesso archeologico importante, ci sono molti ambienti che sono stati inglobati nella costruzione a spese della detta costruttrice. Fu Vincenzo Minardi, l'imprenditore scomparso proprio recentemente, che si assunse le spese per gli scavi e per la musealizzazione di questo sito che ora viene aperto al pubblico. Ieri hanno presentato l'iniziativa Anna Siccoli, che è la capogruppo della delegazione fanese del FAI. Le visite saranno sabato e domenica, meglio la prenotazione, al numero 379-13-59-443. Ripeto il numero 379-13-59-443. Le visite sabato e domenica, dalle 10 alle 12.30, dalle 15 alle 18.30. E si formeranno gruppi di 20 persone. Ebbene, spiccano dunque i resti di una villa suburbana di età romana, di un grande sepolcreto sviluppato sopra accanto ai resti della villa. Ed è veramente suggestivo questo ambiente. Ci sono ancora muri affrescati, ci sono pavimentazioni a opus spiccatum, e poi ci sono delle canalizzazioni che finiscono fin oltre la villa. Insomma, lì era veramente un'area archeologica che se fosse preservata nella sua integrità sarebbe stata veramente un'attrattiva importante, ma purtroppo affano la maggior parte dei reperti che si ritrovano poi o vengono inglobati in costruzioni, si pensi all'anfiteatro in una maniera un po', dico che scandalosa e del poco, oppure vengono ricoperti. E speriamo che non avvenga così magari in piazza Andrea Costa, dove lì sono in atto ancora altri scavi, poi ce ne sono anche in via Vitruvio. Insomma, fanno veramente una miniera di cose che si nascondono nel sottosuolo. Una iniziativa che festeggia un sodalizio molto importante, che opera pensate da cento anni nella nostra città. Fu fondato nel 1924 come bocciofila. È la combattente, ora trasformata in polisportiva, che si dedica anche agli scacchi, al biliardo e al bowling. Insomma, sono diverse le opportunità, ma la combattente è qualcosa di più di una bocciofila, di una realtà sportiva. Nel grande capannone, che è situato a margine del quartiere del Vallato, si svolgono tante iniziative. Si svolgono mostre, feste, incontri. Insomma, è una struttura aperta a tutti i bisogni della città. E domenica prossima festeggerà i suoi cento anni. Le ha evidenziato il presidente Luciano Gasparelli il programma di questa iniziativa. Alle dieci ci sarà un'assemblea nella sala di rappresentanza della Fondazione Califano, a cui seguirà un grande pranzo nella sede della combattente per 200 persone. E poi, in futuro, ci saranno altre iniziative. Ci sarà anche un libro che ricorderà tutti i record ottenuti, tutta la storia, insomma, della combattente ottenuti in cento anni di attività. Questo è per quanto riguarda questo articolo. Ed ora vediamo, invece, una iniziativa di carattere scolastico ricreativo, perché le due cose si associano. Sport e divertimento al Don Orione. È stata istituita in questo bel complesso che si dedica alla formazione dei ragazzi, e soprattutto procura loro un bel posto di lavoro dopo la promozione, dopo la scuola, perché gli vengono messi in grado, questi ragazzi, di acquisire tante nozioni pratiche che vengono subito assunti dalle ditte che hanno bisogno di forza lavoro. Ebbene, questa volta Don Orione si apre alla città e presenta il progetto Insieme si cresce. Giorgi, il direttore, ha detto che ai giovani verranno dati campi, laboratori, spazi musicali e anche light tech. L'obiettivo è coinvolgere 200 ragazzi e 150 famiglie della città. Dunque il Don Orione apre i suoi spazi, in particolare apre i suoi spazi per il dopo scuola per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Non solo per gli studenti che vanno a scuola a Don Gentili, ma indistintamente a tutti. Vogliamo accogliere infatti, ha detto Roberto Giorgi, che è il direttore della scuola, i giovani non solo a scuola, ma anche quando vogliono manifestare le loro esigenze e i loro bisogni. E allora si mettono a disposizione impianti di calcio, calcetto, basket, pallavolo, cortili, laboratori, spazi musicali, in modo che possano crescere in un ambiente protetto, sicuro e soprattutto improntato all'educazione e alla legalità, cose molto molto importanti. E a proposito di anniversari, il resto del Carlino ricorda anche Italo Nannini, scomparso quattro anni fa, soprattutto a ricordarlo la sua associazione che si dedica all'Africa, ai paesi più poveri dell'Africa. Oggi sono esattamente quattro anni dalla morte del fanese Italo Nannini, molto conosciuto in città per il suo impegno a favore degli ultimi. E fa bene il resto del Carlino utilizzare questa parola, ultimi non solo africani, ma anche i deseredati, quelli che hanno bisogno di aiuto, anche gli italiani. Ebbene, viene organizzata la quarta edizione di Non Voltarsi, un'iniziativa solidale in memoria di Nannini, attraverso la quale ogni anno viene individuato un progetto emergente cui destinare un contributo specifico. Allora, oggi è previsto un doppio appuntamento per ricordare Nannini. Alle 19, nella parrocchia Santa Famiglia, a Fano II, ci sarà una messa in suffragio. Per chi lo desidera, e poi c'è anche un buffet nei locali della parrocchia. Alle 21, invece, nella nuova Sala della Cultura, in via Arco d'Augusto, l'ex tribunale per intenderci, ci sarà un incontro sul tema Non Voltarsi, Israele e Palestina, quale pace, con Anna Maria Selini, che è una giornalista ed esperta delle aree di crisi, come appunto è quella della Palestina del Medio Oriente. Allora, vediamo anche la politica. È quello che è accaduto nell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Fano, dove è successo che una delibera presentata dalla Giunta non è stata approvata. Sono venuti a mancare alcuni voti della maggioranza. Ovviamente l'opposizione ha votato contro e qualcuno si è astenuto. Propaganda per seri, maggioranza a picco, intitola il resto del Carlino. Ebbene, c'è stata una delibera che riguardava una variazione di bilancio. Dopo che il bilancio preventivo è stato approvato all'inizio dell'anno, accade che dopo qualche tempo insomma occorre cambiare un po' i capitoli di spesa. Ed era una proposta che aveva presentato l'assessore al bilancio Sara Cucchiarini. Però in questa delibera, oltre a provvedimenti condivisi un po' da tutti, c'erano per esempio fondi a favore della Rocca Maratestiana, di San Francesco a causa del terremoto. Insomma, ovviamente erano degli atteggiamenti, degli atti condivisi da tutti, ma c'erano anche quelle 30.000 euro che il sindaco aveva riservato per fare un consuntivo della sua attività a fine mandato. Una parte della delibera, questa molto contestata dalla opposizione e probabilmente anche da qualcuno della maggioranza. Per cui la delibera non è stata approvata. drastico è deciso il commento da parte del Movimento 5 Stelle, della Lega e di Fratelli d'Italia. Colpito e ucciso dal ramo che stava tagliando, un dramma che è accaduto, una tragedia che è accaduta a Cartoceto. Si tratta di un uomo di 83 anni che stava tagliando un albero quando il tronco gli è caduto in testa e purtroppo non c'è stato nulla da fare, anche se i soccorsi sono intervenuti per cercare di riportarlo in vita. Purtroppo l'uomo è deceduto. Con ogni probabilità oggi verrà eseguita l'ispezione cadaverica. Profondo cordoglio, suscitato nella disgrazia in tutto il paese di Cartoceto, dove conoscevano l'uomo. Si tratta di Renzo Sanchioni, come ho detto, 83 anni. E poi vediamo la pagina di Urbino, dove c'è una realizzazione, l'ha annunciata il sindaco Gambini. Si tratta di due cantieri per quanto riguarda la viabilità. Mazzafferro, Strada Rossa e Cesane, così saranno più vicini alla città. Sono cantieri stradali che vengono così impostati su più fronti. Gambini dice camminamenti ciclabili e percorsi di vita per creare zone più vivibili. Due cantieri aperti da poco in due estremità della città, ovvero verso il quartiere di Mazzafferro è da una parte e quello delle Cesane è dall'altra parte. Un altro invece dovrebbe avviarsi in breve proprio all'imbocco della Strada Rossa e sono gli investimenti che fa la città ducale. Poi voglio farvi notare anche questo articolo che evidenzia tutte le iniziative del FAI per questo fine settimana. Sabato e domenica non c'è che l'imbarazzo della scelta per visitare il nostro territorio, che è veramente una miniera di arte, di bellezza, di paesaggio, di ambiente, di cultura, insomma veramente siamo una zona dell'Italia molto molto fortunata. Arte, sacro, scienza, natura e tesori vanno in scena le giornate del FAI. A Urbino si potrà visitare la Cappella musicale del Sacramento, al Collegio Raffaello un percorso dedicato all'incisione. A Ferminiano si riscoprirà il passato industriale del paese con gli interni e le turbine dell'Excel Lannificio Carotti. E poi vediamo che doppio appuntamento da Qualagna con orari 10, 13, 14, 30, 17 e 30 in entrambi i giorni. Doppio appuntamento. Il primo porterà la scoperta dell'Abbazia Benedettina di San Vincenzo al Furlo, bellissima. Il secondo dell'Antiquarium Pitinum Mergens, museo archeologico in centro storico. Infine sarà aperto anche un monumento simbolo dei luoghi del cuore del FAI che è l'Abbazia di San Michele Arcangelo a Lamoli. Anche questa una cosa veramente splendida ai piedi dell'Appennino. Ebbene questo è quello che dice il resto del Carlino, ma diamo un'occhiata anche alle pagine pesaresi dove l'apertura è dedicata ancora una volta a Soria. Se non sbaglio vediamo un po'. Eccola qua, sì, a Soria. La politica corre dai residenti, dall'asta il comune ritiri tutto, Biancani, via Caboto resterà così, non sarà mai chiusa al traffico, dice né ora né mai. Ebbene ancora emerge la protesta dei quartieri, anche se l'amministrazione comunale è giunta un po' ad accogliere quello che i residenti avevano chiesto. Comunque fin quanto non c'è nero su bianco i residenti non si arrendono. La protesta dei quartieri diventa battaglia di campagna elettorale. Il centrodestra va ritirata alla delibera, così reclama, mentre il candidato sindaco del Partito Democratico, Andrea Biancani, prende il suo primo impegno. Non sarà mai chiusa al traffico, detto se vincerà le elezioni. A contrastarlo però è Marco Lanzi del centrodestra che lancia la sua sfida. Una svolta per la città in cinque mosse e partirò dai giovani, ha dichiarato il candidato sindaco che a tutto campo rilascia questa intervista firmata da Solidea Vitali Rosati. Ed ora diamo un'occhiata anche al futuro del attuale sindaco Matteo Ricci che dice sono pronto a candidarmi per le elezioni europee se Elislein lo accetterà. Insomma deciderà appunto la segretaria nazionale. E c'è anche applausi per De Caro che doveva intervenire ieri nell'assemblea delle autonomie locali italiane che si è svolta a Pesaro. Ricci è presidente ma purtroppo con tutti i problemi che ha avuto non ha potuto così intervenire in questa assisi. Comunque era uno degli invitati che aveva destato le maggiori aspettative. Vedremo quale sarà ancora il futuro di Ricci. Le sue intenzioni ormai sono chiare. Vedremo se il partito lo accoglierà. La Biblioteca Oliveriana è in fase di trasloco per dei lavori che si stanno facendo alla struttura edilizia. Un maxi trasloco di libri. 7.000 scatoloni. Pensate che operazione si sta montando. Andranno a Monsano. Altre migliaia di volumi sono da piazzare. I lavori impongono di svuotare la biblioteca ma è dura sistemare, pensate, testi antichi, incunaboli, disegni preziosi che vanno trattati con la massima delicatezza. E allora chiudiamo qui il resto del Carlino e diamo un'occhiata al Corriere Adriatico sulla pagina di Fano. L'apertura è dedicata alla seduta del Consiglio Comunale dove è stata respinta la delibera della variazione di bilancio di cui abbiamo già parlato e che conteneva questo punto controverso dei 30.000 euro necessari per la pubblicazione degli atti che avrebbero illustrato l'attività di 10 anni del Sindaco Massimo Seri e dell'attuale maggioranza. Vediamo un articolo di cronaca invece che è accaduto a Fano. Ebbene un diciottenne e un diciottenne patteggia otto mesi con pena sospesa per essere trovato e stato in possesso di droga. Ebbene era tenuto d'occhio dalle forze dell'ordine. L'unità cinofila aveva così mostrato dei segni di agitazione e quindi questo aveva fatto capire agli agenti che quel ragazzo forse aveva qualcosa che non andava, insomma nascondeva qualcosa. L'uomo ha cercato di leguarsi salendo sull'autobus, ha aggettato un pacchetto contenente, poi si è scoperto che conteneva droga, una ventina di grammi di ascis, quindi è stato arrestato, il giovane alle strette ha confessato quello che aveva. Purtroppo dietro questa vicenda c'è anche un caso di umanità. Un giovane che entra dopo tante vicissitudini in Italia con quei viaggi della speranza che veramente lasciano così un segno indelebile nella loro vita, perché poi sono dei travagli indicibili, aveva trovato un lavoro, lo perde per cercare di sbarcare il Lunario, non ha trovato altro che procurarsi della droga e ovviamente cercare di utilizzarla in un certo modo. A questo punto è stato così, è stato condannato, però è ora, è libero e si spera che possa trovare un lavoro per cercare di uscire da questo giro. Socialità tra gli adolescenti, il Don Orione offre quattro spazi, break, sound, robotica e sport. Questi sono appunto i settori cui agirà il Don Orione, spazio per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni. E poi c'è una bella iniziativa che è stata organizzata dal Lions Club di Fano in collaborazione con i ragazzi del Liceo Nolfi a Polloni e l'azienda sanitaria territoriale. È stato effettuato un corso, una dimostrazione per come si interviene nei casi di pronto soccorso e avere dei ragazzi preparati è una garanzia per la sicurezza della città. Schiacciato dalla pianta che tagliava, muore sul colpo un uomo di 83 anni a Cartoceto, in modo particolare a Ripalta. Ripalta è una frazione di Cartoceto immersa in un paesaggio silvestre collinare di eccezionale bellezza, quasi un balcone proteso sulla costa. Da Ripalta si vede la costa da Fosso Signore a Fano. Ebbene, nonostante questa bellezza, purtroppo è accaduto un dramma che ha fatto oscurare il contorno. Purtroppo è deceduto un uomo di 83 anni che stava tagliando una pianta e gli è caduta addosso e ha colpito alla testa. La combattente compie 100 anni, libro e scultura. Oltre al libro che verrà realizzato sulla storia della combattente, è stata commissionata anche una scultura che verrà posta all'ingresso del grande casseggiato in via Speri, nei pressi del Vallato, una scultura realizzata da Giorgio Antinori, che reca anche nel suo complesso di carattere metallico una grossa pietra da diverse tonnellate. Vediamo anche sulla Val Cesano, vediamo che San Costanzo si appresta a inserirsi nelle settimane della cultura di Pesaro. Ebbene, il sindaco Sorcinelli ha organizzato un programma veramente attrattivo, orgogliosi della nostra cultura, dieci mesi di lavoro congiunto. Il sindaco in teatro sulla settimana di San Costanzo del progetto Pesaro Capitale. Ancora sulla pagina di Senigallia, l'articolo riguarda invece una ditta. Si tratta di Orto Verde, che ha avuto un ediniego per la costruzione di una cella frigorifera indispensabile, perché è molto alta, 30 metri, pensate, viene quindi bocciata dalla soprintendenza, ma la ditta senza questa cella non può operare, perché è una cella frigorifera, altrimenti deve rivolgersi a celle che sono molto molto lontane appunto dal Misa. E poi per il ponte Garibaldi è tutto deciso, verrà realizzato 50 metri più a monte. E questa è l'ultima notizia. Io vi do appuntamento a domani e ci risentiamo per le notizie del fine settimana. Grazie per l'ascolto. A risentirci.